Da oggi Franco Agostinelli è cittadino di Prato. Nel pomeriggio all'unanimità il Consiglio Comunale ha conferito la cittadinanza onoraria al Vescovo Emerito per l'impegno profuso alla guida della diocesi pratese negli ultimi sette anni. Prima della cerimonia ufficiale Monsignor Agostinelli ha ricevuto dal sindaco Matteo Biffoni il gigliato d'argento come simbolo della città di Prato. Insomma è stato cittadino, ha affrontato momenti molto complicati di questa città, nello stesso tempo appunto è stato qui momenti belli. Alla cerimonia erano presenti anche il Presidente del Consiglio regionale Eugenio Gianni, il Presidente della provincia Francesco Pugelli, i consiglieri regionali Laria Bugetti Nicola Ciolini e tutte le autorità civili e militari della città. Agostinelli era accompagnato dal suo successore Monsignor Giovanni Nerbini e dal vicario Monsignor Nedo Mannucci. È un'emozione ricevere questa onorificenza così generosa da parte vostra, ha affermato Agostinelli, porterò con me in quello che adesso è il mio impegno di Correttore Nazionale delle Misericordie tutto quello che ho imparato in questa città e sarò sempre onorato di potermi definire pratese.